Zilabeg è una delle aziende di riferimento a livello mondiale nel campo della ventilazione e propone soluzioni all'avanguardia per le applicazioni di scambio termico, condizionamento ed estrazione dell'aria. I nostri sistemi di ventilazione, frutto del connubio fra profili aerodinamici innovativi e motori ad elevata efficienza energetica, rappresentano la soluzione migliore per garantire la sostenibilità degli impianti e ridurne drasticamente i costi di esercizio. Su questo impianto troviamo esempi delle due principali serie di ventilatori assiali Zilabeg. Nel cassone di espulsione del container troviamo un ventilatore della serie Maxvent. Si tratta di un ventilatore di tipo intubato per medie pressioni che offre la possibilità di combinare motori potenti con un'aerodinamica flessibile così da ottenere una soluzione ottimizzata per le specifiche esigenze dell'applicazione. A servizio del dry cooler posizionato sul tetto dell'impianto troviamo invece dei motoventilatori della serie ZA Plus, la punta di diamante della nostra gamma assiale. Il segno distintivo dei ventilatori Zilabeg è il design delle pale che prende ispirazione dalla bionica, ovvero dallo studio degli elementi presenti in natura. La caratteristica più nota delle pale assiali è la seghettatura del bordo posteriore che ricorda il profilo delle ali della civetta, il più silenzioso tra i rapaci notturni. Il design esclusivo di queste pale consente di massimizzare l'efficienza aerodinamica del ventilatore e di minimizzare l'impatto acustico. Nel caso della serie Maxvent le pale sono realizzate in materiale composito denominato ZA Mid, un tecnopolimero ad alta resistenza rinforzato con fibra di vetro che possiede la robustezza dell'acciaio senza rinunciare alle caratteristiche di leggerezza e termostabilità. Con ZA Plus invece abbiamo realizzato un sistema di ventilazione che combina i vantaggi del design delle pale con un convogliatore in materiale composito dotato di supporto motore, pale raddrizzatrici di flusso d'aria e diffusore sul lato di mandata. Questo sistema multifunzionale rispetto ad un ventilatore installato su un classico convogliatore in lamiera è in grado di garantire pressioni più elevate, un impatto acustico decisamente più basso e un livello di efficienza energetica significativamente più elevato. I ventilatori rappresentano un componente strategico negli impianti a servizio della filiera agroalimentare. Sono proprio i ventilatori infatti a svolgere il delicato ruolo di termoregolazione dei processi ed il loro livello di efficienza e affidabilità influisce direttamente sulle prestazioni, sui consumi energetici e sui costi di gestione degli impianti. Zilabeg mette a disposizione dei propri clienti tutto questo insieme alla solidità di un gruppo internazionale con più di 111 anni di storia e al servizio puntuale offerto dalle proprie filiali commerciali.